Ok, allora prima che torni con Lex, gli dovresti fare più o meno queste quattro domande che vediamo insieme e vediamo anche il motivo del perché gli dovresti fare queste domande. Allora, se sei tornato Lex, quindi Lex ti ha riscritto, hai cominciato a contattarti, eccetera, vuole tornare con te, vuole stare con te, vuole fare tante cose con te, tante belle cose con te, vorrei che tu non ti lasciassi un attimo attrarre o comunque ammaliare dalla situazione ex, cioè nel senso vorrei che tu fossi un po' più realista magari nel caso, per realista si intende proprio che tu guardassi in modo un po' più oggettivo quello che c'è stato fratti voi e quello che è successo, anche perché così riusciresti poi a capire bene se ne vale la pena o meno, nel senso ovviamente andare con Lex oppure no. È chiaro che quando ti rapporti con Lex succede un po' un casino, cioè nel senso succede che ci sono dei forti rimandi riguardo quello che è il vostro passato, questi rimandi ovviamente non ti porteranno a vivere bene, specie se parliamo di qualcuno che ti ha tradito, quindi una persona che eventualmente ti può avere in qualche modo dato molto fastidio, ovviamente con i suoi atteggiamenti fetifraghi, e non credo che questa cosa possa quasi essere risolta in qualche modo, ma tuttavia magari fare queste domande ti può aiutare a capire se ne vale la pena, ok? Me ne sono segnate, sono insomma abbastanza semplici, tipo la prima è che cosa è cambiato in te per farti pensare che questa volta le cose andranno diversamente, ok? Nel senso che cos'è che pensi che possa essere definitivo e che definisce il fatto che non finiamo di nuovo come prima a spaccarci stranamente. Ovviamente prima di andare avanti ti ricordo di iscriverti al canale, se non me lo dimentico, io sono Federico Picchianti, in descrizione trovi il link per accedere e prenotare una consulenza gratis conoscita con me, c'è anche il link per trovare tutti i miei libri su Amazon, c'è anche il link ovviamente per accedere ai miei video riservati sul Patreon, e c'è anche il mio numero di telefono al quale puoi farmi domande di SMS. Ma andiamo diciamo al sodo, e parlando quindi dell'ex, la domanda che ti ho detto prima che è che cosa è cambiato in te per farti pensare questa volta che le cose andranno diversamente, tende un attimo a voler far sì che l'altro verbalizzi un po' quelli che sono i problemi o comunque la cosa definitiva che può per l'appunto portare una soluzione fra di voi, cioè nel senso qual è quella cosa che è cambiata, cioè in realtà una persona può cambiare, questa è una domanda che mi farei, e non credo che sia facile che una persona cambi, credo che sia facile magari che una persona possa smussare un po' il suo carattere di merda, se questo appunto non è tanto diciamo funzionale, e quindi è possibile che tu possa rapportarti con qualcuno che magari riesce a smodellare il suo carattere, a smussare, scusami a modellarlo, e eventualmente riesce a portare un risultato di un qualche tipo quando, non so, cioè riesce a portare un risultato di qualche tipo quando per esempio smussa proprio delle cose sue naturali, cioè nel senso dei suoi caratteri, tratti naturali, li smussa e allora li porta, cambia proprio un game changer, c'è un risultato definitivo che cambia, cioè non so, per esempio è uno che veramente non lava mai per terra, che ne so, è uno sfaticato che non ti porta mai a cena fuori, chiaramente non è proprio il suo stile portarti a cena fuori, ti porta sempre a mangiare panini, e magari smussando il carattere riesce poi eventualmente a portarti una tantum a cena fuori, prima era mai, adesso una tantum è meglio, lo accetti, lo accetti perché stai in una relazione, quindi accetti queste cose, ah ma perché io devo accettare le cose? Eh vabbè, stai in una relazione, insomma ci mancherebbe, nel senso funziona un po' così, è un esempio chiaramente, poi ci sono comportamenti e atteggiamenti peggiori che vanno nel peggiorativo, non è che ti deve portare sempre a cena fuori, questo è un esempio abbastanza banale, anche per rendere una cosa molto chiara e semplice, la seconda domanda è come pensi di ricostruire la fiducia, cioè come ci arrivi adesso tu a ricostruire la fiducia, che cos'è che fai, cosa puoi fare per far sì che ci sia una nuova fiducia fra me e te, anche perché personalmente mi ricordo uno dei problemi principali è stato proprio nel senso, nella mia vita in generale è stata proprio la fiducia, cioè nel senso molte persone magari arrivavano a un punto, magari le ultime persone che ho frequentato per via del lavoro che faccio arrivano a un punto di non fidarsi di me, però questo era un problema loro di insicurezza riguardo la fiducia, chiediti un attimo se quando tu gli chiedi di ricostruire la fiducia è un problema tuo o eventualmente è un problema loro, cioè nel senso è un problema che porta loro a comportarsi di merda o eventualmente sei tu che hai un problema di fiducia e di sicurezza, quindi su questo ci lavorerei un attimo e penserei, perché di solito quando si parla di fiducia in teoria mi viene da pensare che sia un problema di entrambi, cioè un problema da una parte e dall'altra, non sia un problema unico, quindi una sola via. In casi rari, cioè per esempio io con la mia ex potevo dire ok io mi fido ciecamente di te e l'altra persona diceva no io non mi fido di te per via di quello che fai, ok lì è un problema tuo di insicurezza, i miei comportamenti potevano essere modellati, qualcosa poteva essere modellato, ma comunque intaccava il business, in quel caso non l'avrei modellato più di tanto proprio perché è lavoro, piuttosto avrei richiesto una grossa fiducia, quindi un grosso carico di fiducia dall'altra parte, quel grosso carico di fiducia non arrivava e quindi chiaramente poi si andava male, si andava a finire male. È un tassello importante, cioè nel senso che tu vai su una relazione, vai in una relazione senza fiducia, un bocca all'uomo, cioè molte donne dicono io non mi fido, cioè no tu se stai con qualcuno devi dire io mi fido ciecamente di quella persona, non me ne frega un cazzo, che esce con x, y, z, perché io so che mi posso fidare al 100% di lei. Se puoi fare una cosa del genere che è simi strafottenza, ma non è proprio strafottenza, se riesci a fare una cosa del genere hai vinto, cioè nel senso stai molto bene, stai in gamba, vai alla grande. Se non riesci a fare una cosa del genere hai un problema, non riesci a creare qualcosa di stabile. E poi c'è la terza domanda, no? E cosa abbiamo fatto fino adesso, o comunque nel tempo, da separati, quindi mentre stavamo separati, per diventare delle persone migliori o partner migliori? Che cosa abbiamo fatto? Questa è la domanda che dovresti fare a lui e anche a te stessa, quindi chiedere a te stesso, a te stesso se stai prendendo questo video da un ragazzo, dovresti chiedere che cos'è che hai fatto per migliorare, cioè se tu mentre stai separato sei andato a scopare in giro, ti ha migliorato questa cosa? Ok, può essere che sì, può essere che hai visto, hai aperto gli occhi, ti sei divertita, ok, ha funzionato, nel senso ti ha fatto diventare un partner migliore, hai compreso alcune dinamiche, è possibile, cioè è possibile che tu magari ti stacchi e vai a scopare in giro, cioè nel senso questo può succedere, può succedere questa cosa, ma non è, come dire, cioè non è l'unica cosa che ti può far capire delle cose, ti può far capire delle dinamiche, fare questa cosa, cioè frequentare altre persone e andarci a letto, ma sicuramente sono delle dinamiche che non conosci, nel senso finché non le fai o se pensi che sia quella la cosa giusta da fare per capirle. Quindi dall'altro lato mi chiederei che cos'è che hai fatto e che cos'è fatto lui. Magari ti sei dedicato a te stessa, ti sei implementata, cioè nel senso hai fatto molto focus su te stessa, sei migliorata come donna, eccetera. Può essere una cosa che può aver portato a dei risultati, può aver migliorato la tua persona. Chieditelo un attimo perché così ti fai anche un'idea di lui, cioè ti fai un'idea di lui nel senso che capisci poi se capisci se lui è veramente cambiato o comunque è migliorato in qualche modo. È un modo ovviamente semplice per chiederlo, per riuscire ad avere un piano, un quadro chiaro. Cioè nel senso che dici ma che cosa abbiamo fatto per migliorare adesso, io e te mentre stiamo da soli? E gli dici beh io ho fatto questo, ti ho pensato, ho fatto questo, ho fatto quell'altro, ho capito alcune cose. Beh va bene insomma, l'importante è che ci sia un'autocoscienza. E poi c'è la quarta domanda, no? Siamo entrambi propensi a lavorare sui problemi che ci hanno portato a lasciarci secondo te? Cioè siamo entrambi disposti, quindi la rivolge a lui, la rivolge a te. Gli dici senti ma siamo veramente convinti di voler risolvere, cioè di essere in grado di risolvere questi problemi? Ne siamo convinti? Cioè ce la facciamo? O forse no? Perché se riesci a capire se ne vale la pena o meno di riuscire e di provare a risolvere i problemi, cioè riesci a arrivare a un punto dove dici ok, ce la facciamo, va bene. Penso di sì, cioè nel senso siamo propensi a risolvere, scusate, siamo propensi a risolvere i problemi, siamo propensi ad arrivare a un punto di risoluzione, beh in quel caso potrebbe funzionare. potrebbe funzionare se entrambi siete spinti dall'idea di voler risolvere, di voler arrivare a un punto di miglioramento a prescindere da quello che nasce fuori. Cioè siamo convinti di questo? Cioè siamo entrambi propensi a volerci spingere verso un miglioramento della nostra situazione, della nostra coppia? Perché se la risposta è devo vedere che cos'è che fai tu, devo vedere che cosa farai, cosa non farai, quindi è tipo a riprova, che deve esserci per forza una riprova, che deve confermarsi, che ti sfida, eccetera, quello è un passivo-aggressivo, comunque è un demanding, cioè nel senso che richiede più di quello che dovrebbe. E questa cosa non funziona, cioè non porta a un buon risultato, porta a un mal risultato, perché l'altra persona sarà propensa a metterti alla prova, a sfidarti e a farti confermare che tu devi cambiare, in via esclusiva, e non solo che lei deve cambiare, o lui deve cambiare. E questa cosa non funziona, cioè nel lungo termine porta semplicemente al risentimento ulteriore, ancora risentimento, 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 cioè la gente si sentirà, loro si sentiranno, cioè tu ti sentirai risentita, gioco di parole permettendo, e questo non andrà avanti, perché ti sentirai tipo minacciata. Quindi vieni a tornare con l'ex eventualmente, pensa un attimo a queste domande, no? Meditaci sopra, pensaci sopra, e valuta se davvero riesci in qualche modo, se vedi uno spiraglio di luce in questo. Cioè chiediti se vedi uno spiraglio di luce, perché io non credo che tu lo possa vedere al 100%, c'è una gran parte dei casi in cui l'ex torna. Chances are che non trovi qualcosa per ritornare. Le chance sono che non trovi qualcosa di buono per tornare con l'ex. Ok? Non lo so, leggiti il mio libro su Terralex, che trovi su Amazon, e fatti un'idea. Ok? Bene, io sono contento di essere stato qua con voi per questi minuti, ti ringrazio per essere stato qua, ti ricordo di iscriverti al canale, in descrizione c'è il link per prenotare una consulenza gratis, conoscitiva con me, c'è il link per trovare i miei libri su Amazon, c'è il link per trovare i miei video riservati sul Patreon riservati, e c'è anche il numero per farmi domande via sms totalmente gali, se no, see you in next. grazie.